E' il gameplay che pav... E' il gameplay che pav... Ciao! Guarda, rimasto più senza il pavimento E' una pazzamina Ok Do that Basement ovviamente dall'altra parte del mondo Posso dovolta camminarmi dietro? Oh Oh Andiamo a rompere il generatore Oh Vabbè Ah, non ero minimamente una range Oh 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 Questa è un rotto genoa, ho tirato uno skill check Questa è che ci sia un po' di gente qui intorno E uno ha volato a flasharmi prima Eccola, ho sentito Questa è un po' di chiudere Questa è un po' di chiudere, guardate se stanno parlando sopra l'occa Ho visto l'uncorro Guardate come ho tutta l'ammazzare appena mi ridai coltellino Guardate come ho tutta l'ammazzare appena mi ridai coltellino Guardate come ho fatto Guardate come ho fatto Ehi, andi qua Guardate come ho fatto 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 Stom con i reviewer Madonna, hai fatto un headshot? Eri in sette? Eh, un po' tantini Se volete giocare comunque Se riuscite a organizzarvi e a essere in quattro Sì Vabbè, basta che mi fai sapere Il clown era per me o per Edo? Cosa è questo animale? È una cucina gialla Per me portare la cucina gialla Ciao Ciao Ma poi quelle gialle non sono quelle cinese? Buonasera Mattia, benvenuti Ok Come va? Non c'è lui Vedetevi spammate Ma vedete questo esempio che sta sfrighiando qua dal dolore Ah, era dentro il locker Qua c'è da scantare Sì eh Oh no Avevo 1042 punti Gli hai presi tutti di incacciare Luke? O dovevi scendere? Ah, mi dava fastidio il 2 Sì eh 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 Sì eh 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 Sì eh 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 Ho sentito... Ah, era un 2 jam Qua cazzo Mi spesa per il tunnel ma... Sei ferita e sei quella davanti a me Non aveva senso andare sull'altra Non aveva senso andare sull'altra Era troppo più orta Nel civile Anche perchè l'ammassa Mi pare che sia Dubito che si stanno andando sotto Luca Tanto è un po' qui No Tra l'altro qua nel locket ha avuto un culo Che prima mi stavo caricando i coltellini Ma... Non li ho caricati dove stava lei Ha balanza? Ha balanza landing? Easy Ormai sto diventando un cerchino con quel trickster Il main Non ce n'è la staccia per un gap Inleale Non comprendo Non ci passa, scusate? Sai che ci passa? Non so che cazzo, ok Sono capito Che cazzo sta facendo? Che cazzo sta facendo? What the actual fuck is that? Is that? Non è che capiglia lei Questa animazione che sta facendo Ha finito quella hitata ossia non è vero vedo l'obbaccio stanno andando Vabbè, ho fatto l'unistanza di danno a me Not that bad Ormai ne rimangono due e sono entrambi alla storia La partita è vinto Trovarli Sia mai che li colpisco col coltellino vagante Ma secondo me dovrò spaccare i genitori C'è un po' più di punti Quei 100 punti per il damage generato Oh, qui c'è qualcuno che ha avuto un corvo E' un po' più di più C'è un po' più di più E' un po' più di più E' un po' più di più Perfesso semplicemente Metterlo all'armo E vincere gli RNG Perché è più veloce Non mi piace stare due ore a cercare l'ultima Sopravvissuta E' un po' più di più E' un po' più di più E' un po' più di più E' semplicemente più veloce E' un po' più di più E' un po' più di più E' un po' più di più Vedo se trovo la botola prima dell'altra Che sembra molto mobility Oppure trovo prima lui Però l'hai tatt E' un po' piùampo 14 colpellini Nava l'inca uno E' entrato davvero nel locker? Non è entrato? Sì è entrato Non so se potrebbe avere Quello per stonarmi Devo solo farlo subito e basta Non ce l'avevo Ho pensato per un attimo Che avesse quello Come si chiama? Proprio per baitarmi Poi ho visto per scratch E sentivo lei che stava Anzimando dentro Devo anche pensare a ricaricare le munizioni Cioè doveva proprio prendere le cose GG 4k Che cosa sono adesso? Ah sono già Sono già in Redemption 3 Dai vai si ranka per Io in Redemption 1 Eohn Sai Eh 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 Eh